Il più cordiale saluto da ETG, edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarket.it. Notizie che trovate live anche sulla nostra pagina Facebook e TV Marche, così come sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet e TV Marche. In apertura di questa edizione, come potete leggere dal nostro sito, il freddo, il grande freddo che è arrivato con nevicate che sono già cadute nella notte. Questa è, la vediamo insieme in diretta, la webcam dalla Baita alla Capannina, situata in zona Sassotetto. Immagini spettacolari che ci consegnano una regione Marche colpita dalla perturbazione detta Tor a livello nazionale per la nostra regione. Che cosa questo significherà? Guardate questa grafica importante. Sabato 21, nevicate previste su tutta la parte dell'entroterra della regione Marche, in particolare sul Fermano, sul Maceratese e sull'Ascolano. Non sono escluse precipitazioni nevose anche nei centri cittadini importanti, come quello di Macerata, come quello di Fermo e anche come quello di Ascoli e Piceno. Temperature in netto calo rispetto ai valori di oggi. Queste sono le previsioni, ripeto, per la giornata di domani, sabato 21. Intanto, come dice il nostro sito, il martello di Tor colpisce le Marche. Sabato in biancata, anche quote collinari e città. Frontignano, oggi inizia ufficialmente la stagione sciistica. Nella parte medio-alta delle saliere si registrano accumuli anche di 50-60 centimetri di nieve, spiega Francesco Cangiotti, amministratore delegato della società, che ha in gestione le stazioni sciistiche di Frontignano e Bolognola. Nelle prossime ore, come dicevamo, attese nuove nevicate sui Sibillini, ma quota neve che scenderà fino a 400-500 metri nella giornata di oggi, per poi arrivare domani anche a quota 100 metri sul livello del mare. Attenzione anche e soprattutto per chi volesse mettersi in viaggio nella giornata di domani. La cronaca ora dopo il tema del maltempo. Ubriaco e nudo semina il caos e i danni al pronto soccorso di Pesaro. Viene arrestato un giovane paziente ubriaco portato al 118 al pronto soccorso di Pesaro in seguito ad un incidente stradale. Avrebbe strappato la flebo aggredendo un infermiere, denudandosi, urlando frasi sconnesse. Non solo, avrebbe sferrato un pugno alla barriera in plexiglass del triage, rompendolo e provocando un fuggifuggi generale. Intervenute le forze dell'ordine, l'uomo è stato arrestato. La cronaca ci porta ad un incidente stradale che si è verificato nella notte in autostrada. Vedete l'immagine, un tir che piomba sullo spartitraffico, pompieri e sanitari al lavoro per estrarre il camionista tra le lamiere. Che vi diciamo subito, fortunatamente non è in gravi condizioni. Perde il controllo di un auto articolato che finisce contro lo spartitraffico che delimita la corsia di uscita dell'A14 da quella di marcia. È accaduto questa mattina attorno alle 4.30 lungo il tratto autostradale nei pressi dell'uscita di Ancona Nord. Dopo l'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia con due autobotti e i sanitari del 118. Ora una notizia che ci porta in Vallefoglia per una querelle tra il sindaco di Vallefoglia, Ucchielli, e i piccioni. Esattamente, niente cibo, dice il sindaco, gli animalisti passano al contrattacco. Il sindaco in guerra contro Piccioni e Colombi. Gli animalisti contrattaccano con un esposto per addirittura maltrattamenti di animali. Il caso è a Vallefoglia, nel Pesarese, dove nei giorni scorsi il sindaco, già segretario del Partito Democratico, Palmiro Ucchielli, ha ammesso un'ordinanza per vietare alle persone di dare da mangiare piccioni. Perché? Per fronteggiare problemi legati ai gene, cattivi odori e il rischio potenziale di malattie veicolate dai volatili. Una misura però ritenuta illegale, secondo l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che annuncia la presentazione di un esposto contro il primo cittadino. Vi terremo aggiornati. Parliamo di economia ora, perché sul fronte Interporto ci siamo. I lavori sono partiti per la realizzazione di un nuovo polo logistico. Adesso partono i lavori di costruzione, quindi tutti i lavori di movimento terra, i sottofondi, i piazzali e poi la costruzione vera e propria di questo edificio, che come è noto consiste in 66.000 metri quadri di cappannone. Siglato alla fine dello scorso anno il contratto definitivo tra Interporto Marche e Privati e Scannell per la cessione della proprietà e dei diritti edificatori del nuovo sito logistico di Amazon, l'azienda ha già avviato il cantiere. Tecnici addetti ai lavori di Scannell sono già sul territorio per svolgere indagini geologiche e far partire i lavori veri e propri che inizieranno nelle prossime settimane. Il risultato finale sarà la realizzazione di un capannone di 66.000 metri quadrati con un sistema automatico di stoccaggio delle merci, che se tutto andrà come da programma sarà operativo per l'estate 2024. Mille i posti di lavoro che si verranno a creare. Ma il futuro dell'infrastruttura, dove oggi lavorano circa 300 addetti, tra trasportatori e imprese insediate, non è legato solo al nuovo polo logistico. I numeri dei treni in partenza da Interporto tramite la linea dedicata ad oggi sono 300 all'anno. Ma quest'anno il gestore dello Stalo Merce ha annunciato che potrebbero arrivare a 900. Inoltre ci sono anche altri progetti in corso per il miglioramento della rete. Su queste infrastrutture è in corso un progetto da parte di Interporto finanziato dal Ministero dei Trasporti per 4 milioni e mezzo con il quale faremo l'ammodernamento dell'infrastruttura, la realizzazione di piazzali e poi ci sarà anche la costruzione, ovviamente con altre risorse, di cappannoni. Con l'operazione Amazon Interporto ha ceduto delle aree ma ne ha acquistate altre. Quindi avremo anche altri spazi a disposizione per gli operatori. Quindi un'infrastruttura importante che dovrà crescere molto collegandosi anche con il porto e l'aeroporto. Questo è il servizio sul tema dell'Interporto. Parliamo ora di sanità. Importante battaglia per i precari del Covid, i cosiddetti eroi dell'emergenza Covid-19. Per 39 di loro arrivano delle premialità pregresse. La Regione riconosce 39 precari della sanità e non soltanto i 7 comunicati in precedenza. Dal Ministero ai lavoratori verrà erogata la premialità Covid di 792 euro come annunciato martedì in Consiglio regionale dall'assessore alla salute Filippo Salta Martini in risposta ad un'interrogazione del Partito Democratico la cui prima firmataria è stata Micaela Vitri. Possiamo definirla una battaglia vinta solo in parte. Nel senso che quando io per primo ho portato in luce in Consiglio regionale il problema che riguardava 39 lavoratori in somministrazione del comparto sanità centrali listi, tecnici di laboratorio e tante altre figure soprattutto attive nella provincia di Pesaro e Urbino chiedendo come mai non fosse stato corrisposto il bonus indennità Covid a tutti 39 ma solo a 7 di loro mandando al Ministero della Sanità una lista inesatta in cui 32 in realtà erano completamente dimenticati, diventati fantasmi l'assessore Salta Martini rispondendo il 12 luglio alla mia interrogazione aveva continuato a dichiarare che lui riconosceva solo 7 dipendenti in somministrazione la nostra battaglia è proseguita con tanto di presidio con cartelli davanti all'ospedale di Urbino nel mese di settembre quindi finalmente oggi l'assessore ha riconosciuto che sono 39 che tutti avranno il bonus indennità di quasi 800 euro e quindi per questo possiamo dire che abbiamo ottenuto un risultato ma solo parziale perché in realtà il problema non sono questi 800 euro ma è l'assunzione, la stabilizzazione di questi precari alcuni di loro hanno contratti che vanno avanti da 15 anni, contratti a tempo determinato che vengono rinnovati dopo licenziamento di volta in volta una situazione preoccupante per i dem e i sindacati nata appunto dalla mancata risposta sulle assunzioni e sulla stabilizzazione dei lavoratori che hanno protestato con un apposito sit-in davanti alla sede di Palazzo Leopardi lavoriamo con questo contratto di 6 mesi in 6 mesi, dopo il sesso rinnovo si chiude il contratto, ne rinizia uno nuovo quindi possiamo chiedere qual sarà il nostro destino dunque le richieste del PD ci sono persone nel comparto della sanità precarie a vita, è questo che deve essere risolto perché anche questa giunta sta solo alimentando il precariato ci aspettiamo ed è quello che ho chiesto oggi in consiglio regionale all'assessore Saltamartini che si provveda magari con un concorso finalmente ad assumerli questo è il servizio del collega Giacomo Giampieri in chiusura una buona notizia per il trasporto su rotaia nelle Marche arriva un nuovo treno, tra l'altro prodotto anche con materiali riciclato i binari delle Marche suonano note rock per l'inaugurazione di un treno moderno e sostenibile che da domani sarà in circolazione tra Ancona e Piacenza e tra Ancona e Pescara il convoglio è stato presentato oggi all'interno del nuovo capannone delle officine in pianto di manutenzione corrente di Trenitalia una struttura per il ricovero dei mezzi e dotata delle migliori tecnologie per la manutenzione dei treni diesel di ultima generazione questo è un treno eccezionale, è veramente un gioiellino, è made in Italy è sostenibile perché è stato costruito con il 97% di materiale riciclabile un 30% e meno di consumi energetici e questo è molto importante ancora di più in questo periodo ha un comfort eccezionale ed è pensato proprio per le sue caratteristiche per tutti i nostri clienti è proprio pensato anche per le mamme, abbiamo un po' già bambino è pensato per i disabili, lo abbiamo proprio pensato fin dalla fase di progettazione insieme alle associazioni proprio dei diversamente abili prosegue così il piano di rinnovamento dei treni marchigiani con l'ultima consegna diventano 25 i nuovi convogli regionali 9 jets, 4 pop, 9 swing e 3 rock ma anche un ringiovanimento della flotta che sta portando risultati in termini di performance, la puntualità reale del 92% e oltre il 99% quella di Trenitalia aumenta anche l'indice di gradimento degli utenti più di 96 viaggiatori su 100 si dicono soddisfatti c'è un contratto di servizio dal 2019 fino al 2033 tra la regione Marche e Trenitalia oggi non facciamo altro che inaugurare questo nuovo treno rock modernissimo, un ringiovanimento della flotta e questo è molto importante questo contribuirà ad avere quei collegamenti che hanno già inaugurato negli anni scorsi ricordo il collegamento per chi arriva in treno alla stazione di Pesaro con Urbino quindi gli studenti che frequentano l'università e non solo chi arriva alla stazione di Fermo Porto San Giorgio con il collegamento con il capoluogo di provincia Fermo e poi i due link, il medical link che abbiamo inaugurato due mesi fa per chi da tutta Italia vuole acquistare un biglietto per Ancona Torrette arriva ad Ancona Torrette, scende, prende l'autobus in coincidenza e va all'ospedale regionale delle Marche e questo era già attivo nel Politecnica link alla stazione di Varano di Ancona sono possibili collegamenti su gomma per l'università Con questo servizio si chiude questa edizione marchigiana di ETG vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa Buongiorno e TV, buona visione Grazie 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 Grazie